Qui con noi c'è Paola Galano, incisioni, ho detto proprio il nome dell'azienda direttamente perché poi è il tuo nome, con diciamo uno strumento particolare, in realtà uno strumento questo della tradizione. La tradizione orafo si chiama pantografo ed è praticamente un riportatore di dimensioni, io seguo un carattere, un binario già prestabilito e tramite vari bracci e una fresa, posso fare l'incisione su qualsiasi cosa di uso comune alla fine, penne, accendini. E questo è l'elemento diciamo di innovazione perché se una volta questo strumento viene usato principalmente diciamo per il ciondolo, la catenina, cose più tradizionali, tu sei in grado in realtà di incidere su qualunque strumento. Noi qui abbiamo una penna, la riusciamo a vedere? Eccola qui, sulla quale possiamo incidere quello che vogliamo. Sì vedi io qui ho delle iniziali, devo posizionare prima la lunghezza e l'altezza di quello che voglio fare e poi... Devi essere molto precisa? Sì, sì, quella è la cosa principale. Ma io sono pignola quindi... Ah io potrei escludere il tuo mestiere immediatamente. E appiccio? Andiamo, vado. Un po' di rumore, sentiamo. Eccolo. M ed E? Sì. Quindi anche vedi che è un po' d'amore, non lo so, potrebbero essere le iniziali di due bambini piuttosto che... Una coppia, una coppia. Marito e moglie. Esatto, eccola lì. Ah vedi? È fatta. Basta, finito qui, rilucido, andata. In questo caso l'hai fatto sulla penna ma tutto questo può avvenire su anelli... Sì, sì, anche cose, oggetti di uso comune che possono essere portachiavi, cose così che sono economici e uno niente, se li personalizza così. Esatto, personalizzati. Quindi io, vediamo la penna bene, vediamola via. Eccola qui. M ed E. Sì. Non sappiamo chi sono, però va bene, sono fittizi. Grazie mille a Paola. Grazie a te. Ciao. Ciao.